ciao ragazzi ciao buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale sempre forza juventus allora io pre partita juventus spalla prima di cominciare questo video ragazzi vorrevo salutare tutti coloro che hanno lasciato il loro commento sotto il mio canale e volevo ringraziare sempre un salutone davide marmi fabio antonuccio raffaele porcelli ciao ragazzi monica la fratta ciao monica grazie tutto il saluto mi tuo caro marito douglas costa francesco bucca e bruno costarella bruno speriamo che il 6 veramente mandino la promessa che mi viene a trovare per vederci la partita insieme inter juventus e voglio con questo grazie ancora per come mi seguite allora prima di iniziare diciamo il pre partita juventus spalla faccio allora questo è un piccolo messaggio che volevo dare a quei signoroni fanatici tifosi del napoli che a volte lasciano anche dei commenti sotto mio canale perché a volte succede questo in una partita che nessuno mai si potrebbe aspettare specialmente quando giochi in casa davanti al tuo pubblico e con un cagliari però quest'anno è bello perché è iniziata veramente un campionato veramente strana che un parma che perde in casa con la juventus e va a vincere fuori un lecce che perde in casa e va a vincere fuori stanno succedendo partite veramente strane ma proprio a sorpresa e voi giustamente andate a immaginarvi un cagliari che viene a napoli si fa la sua partita discreta creando 0 ma creando proprio 0 sotto 0 ti va a fare quell'azione e vincere la partita ecco che voglio ma non possiamo mettere sul campo a dire e sfortuna o sfortuna a volte che tu giustamente dici sì ho giocato bene 60 minuti possesso ballo tirati 50 volte a porta tre pali due traversi ma quando non hai la qualità quando non c'è la lucidità quando non già hai i campioni che ti possano risolvere la partita sei destinata a perderla o la pareggi o la pareggi o la perdi come è successo col cagliari questo il discorso è fatale da proprio la juventus ecco perché dove io mi arrabbio mi arrabbio che un napoli che gioca un bel calcio che ti fa divertire e capitano una partita storta e la perdi e poi prendi una juventus che ecco le sfortune degli infortuni che becchi che c'è i suoi problemi che becca squadra infortunata che c'è i suoi problemi ti fanno due partite che va sotto con verona e con brescia va sotto e ti rimondi la partita perché vuol dire che una squadra oltre che c'è campioni ma c'è carattere molto carattere e riportando sempre il discorso del napoli ecco la differenza quando il napoli di maradona che poi sono passati discreti campioni come dirseio diaz rudy kroll alemao falca lo scusatemi no foro falcao falcao stava la roma come si chiama careca i classici campioni però quando avevi il giocatore che ti faceva la differenza che si chiamava dico armando maradona voi vi ricordavate i giocatori che aveva maradona attorno a lui chi era ci aveva su quattro cinque giocatori ma allora avevi bagni bagni ero un grandissimo combattente al centro campo ma aveva le gambe storte ma salvatore salvatore non bagni scusami fernando de napoli fernando de napoli un altro centro campista che correva come come un ciuccio ma i piedi zero sotto zero aveva bruscolotti come chiamavano la palla di fierro che quello quando giocavo giocavamo dritto non si becava nemmeno si si tirava in ammazzata nella schiena dritto perciò chiamavano vale fiera e di vedi come era buono erano tutti i giocatori discreti tutti cararmati che i piedi che facevano non sapevano fare nemmeno un passaggio di due metri però quando avevi il campione come di armando maradona e ti beccavi la partita storta lui si inventava qualsiasi cosa e la vincevi questo è il discorso che i tifosi del napoli non vogliono capire e i tifosi del napoli con quel presidente lì non vinceranno mai niente perché quel presidente e chi ci sta attorno e sono bravo a buttare la polvere negli occhi per farvi contenti e ha fatto con dentro per la giustazione perché perché giustato dello stadio perché l'ha colorato poi è in avvitare come sciema bel 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 ma manca il contenuto il manca il contenuto e poi non vorrei dire che che lozano perché non mi devo ricredere perché è un mondo vedere un giocatore che giochi nel suo campionato che è lo io il nostro campionato è molto diverso da noi del nostro perché quando le altre squadre incominciano a capire tu come giochi incominciano a prendere le misure e una volta che hanno preso le misure e stanno come tu giochi poi gli stai andato se non hai campioni non vai da nessuna parte io spero che non è il lozano che abbiamo visto oggi a napoli sia fatto quel gol con la juventus è stato proprio un puro caso che ha segnato con la juventus ma queste due partite ma lozano si è visto proprio non vorrei credere che sia un pacco ma comunque tornando a in casa nostra voglio vi parlo della juventus io ho seguito ieri la conferenza stampa che ha fatto maurizio sardi e diciamo c'è un po da preoccuparsi perché non è mai successo che alla juventus mancano i terzini ma come mancano i terzini siamo terzini senza decidio senza danilo a destra a sinistra il partito nel casandro perché gli è morto il padre dovuto partire e non gioca voglio stiamo senza terzini e i centrali che abbiamo su tutti i destri l'uvali destro bollucci e destra dell'inter destra dei mirale destra l'unico che possiamo risolvere il problema a destra e giocare con quadrato perché quadrato nasce come terzino destra e può giocare a destra ma oggi dobbiamo inventarci una difesa e prendo il giocatore e metterlo a sinistra perché come giustamente ha detto sarri ieri non vi aspettate che giocassi una difesa 3 perché sarri la difesa 3 è da dimenticare ciao ragazzi io sono veramente curioso curioso nel vedere nel vedere la juventus oggi di sarri per vedere come gioca veramente come gioca che difesa si inventa sono veramente curioso e poi speriamo che non sia una brutta partita voglio proprio quello che dico io non lo dico perché per buttare le mani avanti non lo sottovalutiamo la spalla perché in campo scendono 11 giocatori 11 contro 11 non lo sottovalutiamo la spalla e speriamo che non facciamo una brutta partita che la vinciamo portiamo altri tre punti a casa importanti sempre stare sempre addosso all'inter che poi dobbiamo essere preparati per il 6 ottobre ma vedo domani una partita un po difficilotto da parte dell'inter a marassi speriamo non non sarà sempre questa continuità questa fortuna sfacciata hanno potrà potrà andare a vincere anche a marassi io spero di no però comunque oggi guardiamo in casa nostra guardiamo i problemi che abbiamo in casa nostra e speriamo che oggi non voglio che sia una partita spettacola però che sia una buona partita e che portiamo a quasi tre punti ragazzi che dirvi veramente stiamo alla sesta sì questa è la sesta giornata mamma mi sembra ieri che è cominciato il campionato già siamo alla sesta come come veloce il tempo anche se magari se sono stati il frottuno fra settimanale eccetera eccetera comunque voglio non prendiamo sotto campo questa partita stiamo giustamente come tifosi con i piedi per terra e è sempre forza gioventus fino alla fine ancora vi ringrazio per come mi seguite lasciate un like o dislike lasciate il vostro commento sotto al video e poi ho giustamente poveri tifosi del napoli quelli che mi rispondono sempre sotto il mio canale siete proprio dei poveracci poveracci e siete dei dei come detto l'altra volta nel video dei provincialotti provincialotti che non capite niente di calcio niente niente sapete solo parlare male sapete solo offendere sapete fare solo queste bagianate proprio che che poi magari avreste l'intelligenza che quando offendete qualcuno metteteci la faccia che uno vi guarda in faccia che uno vi guarda negli occhi per riuscire a capire dietro di voi cosa si nasconde che personaggi siete che persone siete ma è bello diciamo tastare su una tastiera scrivere e offendere che poi non ti fai nemmeno vedere ecco quando sei vigliacco quando sei io magari ci metto la faccia che posso essere brutto che posso fare schifo posso avere i denti in bocca tutto ciò che tu vuoi però nel mio cuore ci metto la faccia al rispetto di voi voglio scusatemi se ho detto queste parole ma vanno quelle persone che lo sanno molto bene a chi vanno ciao ciao davide e ancora se hai visto il video di cicciano con lui che vince sempre tutto gli anni e poi rimane con i muschi morti ma ciao ciao e a dopo per il post partita i vendus spalla cerchiamo di fare una buona analisi ciao agli un ciao e sempre forza i vendus